Andiamo Cri? Andiamo, no, no, prego, prego signora, prego, prego. Andiamo Cristiano? Sì, andiamo. Sì, stai, stai. Andiamo? Sì, stai, 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 stai facendo i video. Andiamo? No. Andiamo Cri? Andiamo? Andiamo, Cristiano, andiamo. Andiamo. Dico, ma come ti chiami? Dico, ma come ti chiami? Come ti chiami? Dico, ma come ti chiami? Io mi chiamo Cristiano. Fai cara, fai cara bimba. Fai cara bimba. Cara bimba. Ehi, sì, sì, uno solo.